Ciao a tutti ragazzi, sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo episodio di anno 1800 Vi comunico che sfortunatamente mi si è spento il computer, ho avuto un calo di corrente mentre facevo, registravo l'episodio Cosa ho fatto? Diciamo questo è l'ultimo salvataggio purtroppo che sto riuscito a fare, col fatto che sto in autosave e non mi salvo mai gli episodi Cioè non mi faccio mai il salvataggio alla fine dell'episodio, questo è sbagliato, lo dovrei fare Vabbè comunque cosa avevo fatto ragazzi? Avevo avviato la spedizione, il passaggio, avevo messo a coltivare i vigneti per produrre il vino Ok? Quindi lo champagne, scusate, quindi il vigneto, lo champagne e il vetraio Avevo messo anche un altro vetraio qui in modo tale da poter avere risorse per poter fare lo champagne Quindi avevo anche stoppato un attimino la produzione di champagne e avevo riavviata E se non vado errato avevo anche sistemato delle cose qua nel nuovo mondo per quanto riguarda Ok? Questa struttura che mi si era rotta, ci ho messo qua una caserma dei pompieri Sperando che non scoppi nuovamente per aria, anche se non mi ricordo se funziona o no questa cosa Ma per il resto ragazzi non avevo fatto molto, diciamo avevo giocato una decina di minuti Ora, la cosa da fare adesso è ovviamente abilitare lo champagne qui che abbiamo appena fatto E volevo anche costruirne un altro di vigneto perché è meglio averne sempre un po' di più che un po' di meno Cosa potrei fare anche? Potrei utilizzare il finile per trattori Il problema è che, come vedete, mi servono i motori a vapore Quindi l'obiettivo ragazzi rimane sempre questo, di costruire... come cavolo si chiama? La cadena di montaggio automobilistica e ovviamente il necessito di elettricità Quindi il top sarebbe costruirlo tipo in questa parte qua La problematica ragazzi qual è? E' che in questo momento l'ottone potrebbe essere un problema perché, come vedete, ho una produzione di ottone E se non erro ragazzi, non mi pare che loro mi producono due Sì, mi producono due L'ottone si faceva con anche lo zinco Lo zinco dove cavolo lo prendevamo? Ce l'avevamo? Sì, ce l'avevamo Ok, quindi o porto l'elettricità pure qua, oppure potrei tranquillamente fare un'altra fonderia d'ottone Osteramente mi porto lo zinco di qua e faccio tutto insieme E il problema però è uno Mi serve più... mi serve più petrolio Mi serve un po' più di petrolio per poter... oppure mi serve l'artico, vedetela un po' voi Ok, facciamo così In questo modo arriviamo al 600% Qua abbiamo comunque 700 di spazio, quindi già va bene Ok, più petrolio l'abbiamo fatto Allora, per adesso preferirei costruirmi una fabbrica d'ottone qui Che ci manca tutte le risorse primarie tranne il legno Beh, provvediamo subito Allora, risorse primarie tranne il legno Quindi tu, tu e tu Giusto, no? Non mi pare, mi servirà pure il vetro, sicuro mi servirà pure il vetro No, forse solamente il vetro no, vai Ok, questo l'abbiamo sistemato Ehm... Ah, grazie Grazie, sono contento Allora, quindi voi vi mettete il repo qui Pronti ad attaccare A prima vista Chi è che c'è il problema delle virotte commerciali Il deposito è pieno Ottimo Va bene Va benissimo che il deposito è pieno Meglio averlo pieno che vuoto Ehm... Ce l'ho pieno Perché? 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 Boh, non lo so È pieno Comunque va bene così Allora, il motore al vapore se lo metto qui Inizierei a richiedere un po' troppo Dobbiamo aspettare almeno un giro di... Te che vuoi? I need help Costruisci un'eticola Vabbè Ehm... Cultura De qualche parte ci dovrebbe sta l'eticola No, mi sa che ce l'ho solo qua per ornamenti Ehm... Beh Scusate eh Ma l'eticola Statue Decorazioni Pozzo Eticola Vai Ecco l'eticola Sei contenta? Venti pellicce Urca Proprio quello di cui avevo bisogno Ehm... Ma io avevo messo una nave Ma dove cavolo sta? Armor roll Armor roll Vediamo un po' Ehm... Ah, ok Benvenuti nell'artico Allora Nel momento in cui noi andiamo nell'artico Potremmo scegliere se andare o a ovest O a sud E noi andiamo a sud Vediamo che succede a sud Ehm... Benvenuti nell'artico Bla 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 Ok Caccia 20% Speriamo bene ragazzi Uh, è andata bene Ok Diciamo la prima L'abbiamo... L'abbiamo... L'abbiamo passata Ehm... Ma le mie risorse stanno in viaggio Ah sì Perché questa è giusta È un po' lenta Poveretta Sì Ah, lei è tornata Vediamo cosa ci ha portato Allora Un pellicano Mi pare già ce l'avevamo Un caribubo reale E un orso bruno Mi pare ce l'avevamo tutto Tra il caribubo reale Vabbè Eh... Meglio di niente Come promozione non è possibile Ok Allora Eh... Caribubo reale Non è male Pellicano So più che sicuro Che ce l'avevo E l'orso bruno pure Perché se non sbaglio È proprio il primo Orso bruno Il fattito è quello qua Il pellicano Eccolo Vabbè Eh... Ragazzi Meglio di niente Ehm... Iniziamo anche Zittote Iniziamo ad alzare anche un po' I nostri investitori Ora Eh... Noi dovremmo arrivare a 7,50 per i sigari E 7,50 per il club esclusivo Quindi Eh... L'obiettivo sarà appunto Raggiungere questo Questa meta Ehm... È arrivata la nave So speed 3 Quanto cavolo devo correre Oh Cioè ma... Ma... Ma qui sei chissà Ah giusto Sono le mie... Minaccia Di creazione Sì 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 Vai vai Ma ci abbiamo anche una festa Ma che dite La metto un... Ehm... Un porto qui? Un attacco pubblico? Ma io ce lo metto Alla fine mi porta comunque Un po' di soldi No? Perché non dovrei? Impedizione geologica Livello 3 Porca miseria E che me dai? Eh... Ma lo sapevo Lo sapevo che facevo la cazzata Lo sapevo Lo sapevo perfettamente Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Che palle Ok Per curiosità Voglio vedere questa missione Di livello 3 Mamma mia ragazzi No qua mi servono Le navi più grosse Allora Spedizione Il passaggio Vediamo un po' Baia Cerca tracce di uso Recente Trovo informazioni Boh Cerchiamo tracce Nessun segno Tornite Rigidi Continua Continuiamo Verso l'insediamento Vai va Va bene Capitano Ok Cioè abbiamo problemi Con quelli di livello 2 Ragazzi Allora il vetro Ma tu te se navi qua Che fate qui? Ah giusto Tu sei il vascello Che ha terminato la spedizione Te ne vai qua E Tu Prendi 50 Ma si portiamone i 50 E te ne vai di qua E C'abbiamo pure il vento contro Le rotte che hanno un problema Sono loro Questa merce non può essere Il deposito è vuoto Vabbè Fai niente Tu comunque Fallo e caricale E te esci Dalla spedizione Non mi servi più Allora voi Vi mettete Magari qua Magari qua Sì Mettiamoci qua Ok Qua arrivano i turisti Per la prima volta Diciamo sono soldi Non tantissimi Un K Insomma Però Sono soldi Allora Vediamo che cosa vuole La missione qua sotto Ma tanto i soldi Ormai non sono più Un problema Che vuoi tu Sì Ce li dovremmo avere I sigari E lo champagne Ce li dovremmo avere Sì Oh Cacatua nero Bello Ok Vai Questo ci mancava Vai Qua siamo un po' indietro Anche con l'orto botanico In realtà In realtà Potremmo anche iniziare A costruire Un orto botanico Che dite Palazzo mi costa Veramente un bot Quindi ancora non posso Però forse un orto botanico Giusto Influenza Residenze Se l'attivi No Mettiamoci un orto botanico Mi pare che mi sblocca Sblocca Ah sì 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 ok Se non erro Mi sblocca Le missioni adesso Perché ovviamente io qua non c'ho Non c'è niente Ok Va bene Però ora lo mettiamo là Così Poi Ci faremo qualcosa Ok Allora Vai Fandria di ottone Fatta Quindi adesso abbiamo L'ottone Qui a casa Abbiamo anche l'acciaio Quindi potremo Tranquillamente Costruire Costruire Loro Il motore a vapore L'unico problema che abbiamo È l'acciaio No Questo no Questo no Perché c'ho due fabbriche di Di armi Allora una la pausiamo La pausiamo La pausini Ah che battodone Questa era tessissima ragazzi Era molto cringe Ehm Magari cerchiamolo qua Acciaio Ok Allora Ne abbiamo bisogno di 14 Noi qua ne produciamo 6 E qua ne produciamo Mi sembra Altrettanto 6 612 Quindi ne serve un'altra Ehm Credo che Però Bah io ce la metto Non credo serva più di tanto Però Per restare paro con i numeri Preferisco Quindi Tiriamo su Loro E tiriamo su loro Ok Qua ci siamo Ora credo che dovremmo star bene Anche con I beni produttivi Beni di consumo Produzione Di farm town Eh si Siamo bene anche qua Assolutamente Cioè proprio Non abbiamo nessun tipo di problema Perché abbiamo il 60% in meno Di beni richiesti Cioè una Ora il problema è che dovremmo costruire Anche queste Di solito io la dinamite la compro Di solito Me la daranno però la dinamite Eh questo è il problema Non è detto che me la diano Di solito la trovo difficilmente La dinamite Molto difficilmente Perché le armi non te le danno Eccola Ok lei ce l'ha Lei ha la dinamite Quindi andiamo subito A prenderla da lei Era qua? No non era qui Era qui Certo costa Capitale Ma Ma sempre meglio che Dovrei avere una nave in movimento Ok Perché vedete Produrre la dinamite In questo preciso momento Mi costa Davvero Davvero Tanto Mi costa Questo La salina E mi serve un altro acciaio Io già sto in deficit Quindi mi conviene Comprare la dinamite E costruire La fabbrica Di armi pesanti Anche perché Anche questa Mi richiede elettricità E E questo potrebbe essere un problema La salina Se non erro ce l'ho qui No non ce l'ho neanche qua Qui Neanche Eh Vedete Un po' Un po' un casino Quindi mi conviene Mi conviene comprarla La via La via La via Caccia Oh Meno male Stai andando meglio Del previsto Ragazzi Stai veramente andando meglio Del previsto No 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 Non mi triggerà la missione Che non so Il treme lo dipende dove No Non c'ho voglia Mmm Beh La mia nave che sta In viaggio Che sta controvento Vero E Per solito Eh Vabbè Aspettiamo che arriva qua Eh Per il resto Direi di alzare Un altro pochino Allora In modo tale Da arrivare A Città Allora Torniamo un attimo qui In best doors Club esclusivo Mmm Quindi Lo potremo tranquillamente Inserire Tipo qui Ma è bello lontano Potremmo inserirlo qua Non c'entri qua Oddio Oddio No no Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Ok 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 Ehm I sigari Invece Bestor I sigari Ok E va bene Questo lo faccio Eh Mazza Che strazio Però Ok 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 Queste devono stare qua Per forza Così mi metto Dalle navi A difesa Ehm Tu sei arrivata Sì Quanto Quanto Muto Mi servirà Per comprare Questa roba Mamma mia Eh Vi posso dire Saranno 242 mila Ma è Ehm 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 Cioè L'utilizzo Dei soldi Ehm Ehm Perché non farlo Ehm Allora Il cemento Il cemento va Ehm Stiamo producendo Certo L'elettricità Ma chiuderebbe un po' Il problema è che Non ho Qua che ti manca Il cauccio Eh lo so Adesso arriva il cauccio Calma Giovane Vabbè Mi sembra che comunque Stiamo andando Alla fine Ehm Mi piacerebbe molto Costruire il palazzo Mi piacerebbe un sacco Ma ho problemi economici E problemi di risorse Il top sarebbe Aumentare ancora Questa roba Ma Ho finito Ah giusto qua Ehm Questa mi continuo a comprare Le quote Ehm Ma ho finito L'acciaio Quindi dovrei andare Su quest'altra isola E potrei farlo anche qua Un po' d'acciaio Effettivamente Potrei fare l'acciaio qui Oppure potrei Semplicemente Portare la corrente Tu però spari no? Sì spari Anche se non so Se ce la faccio Che c'ho qua? C'è solo lei come nave? Sì forse ce la faccio Quella va giù Sì Che poi mi chiedo Come cavolo fa questo A costruire la roba Che non c'ha Praticamente non c'ha niente Penso che uno contro uno Contro sta nave Perdo Anche perché non sta attaccando Cioè Imbarazzante sta cosa ragazzi Non credo che Forse invece vinco Forse vinco ragazzi Che dite? Sì forse ho vinto Sì ho vinto Che culo Ok vai Vatti subito a riparare Torniamo di qua Vai Ancora non l'abbiamo trovato Dai su che è una rossa puntata Voglio iniziare Offri scambio di reliquie Ok chiedi come sono entrati Scambio di reliquie Vai va Offri scambio Ti è Certa Va bene Dai Su Su Forza Che nella prossima puntata Lo voglio Voglio iniziare l'artico Uh qua c'è una rivolta Vabbè Nulla di Di non gestibile Cioè nulla di Sì nulla di non gestibile È corretto La nave che mi porta La dinamita è arrivata Perfetto Quindi Scarica tutta la dinamite E Dovremmo anche iniziare A fare un po' di tabacco Forse ci conviene andare Di qua E E E Overero 754 Dobbiamo andare qua Nella main island Eh Questo è un problema Questo è un vero problema Questo è un gran problema Questo è un gran problema Non è da poco Ce la facciamo Sì Mannaggia Non l'hai sconfitta Chi l'avrebbe mai detto Allora Iniziamo ad alzare qua E mi serve un mercato E lo mettiamo Qui E E voi pure Avete bisogno del mercato E E E vai Ok Pompieri ci siamo È un bel casino Ragazzi Dovremmo 842 Di cosa Avete bisogno Che io non vi sto dando Il caffè Il caffè E le bombette Allora Le bombette Le bombette Cioè Ah Il caffè È un problema Per voi Come le tortillas Come fai Se è un problema Che c'ho Il deposito di produzione Pieno Scusa Ah Giusto Perché questi Ho tirati su adesso Vediamo loro Ok Mancano solo Le bombette E qua dobbiamo arrivare a mille E anche qua Allora Le bombette Mi danno Due cittadini in più Però mi devo costruire Tutta sta roba Eh Le dovrei costruire Quaggiù Sì Le dovrei costruire Qua E Con la fattoria Di alpaca 030 030 030 030 030 Potrei costruirle qua Sì Allora Lo facciamo qui Lo facciamo Qui In questo Bughetto Ok Ok Anche se Ah Ok Dopodiché Le bombette Le potremo Tranquillamente Mettere Qui Che mi manca È legno Gli vogliamo pagare gara Vediamo un po' Li stretti Navigazione Forza Caccia Navigazione Dai Fidiamoci dalla nostra barca Oh È andata bene Oh Finalmente Ragazzi Abbiamo sbloccato L'Artico Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Bella ragazzi Ce l'abbiamo fatta Tu guarda un po' Che fortuna Eh Eh Mo' dobbiamo lavorare Sull'Artico Anche perché Portando sull'Artico Ragazzi Avremo dei forti benefici Sull'elettricità Va bene Io direi di chiudere Qua la puntata Ragazzi Ehm Chiudiamo qua tutto E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Dove Sistemeremo l'Artico Anzi scusate Prima mi vado un attimo A sistemare le bombette Perché sennò divento stupido Mi tengo la telecamera Qua sopra Ok Così mi ricordo Che devo fare Devo fare questa roba E Nel prossimo episodio Ragazzi Andremo finalmente A sistemare L'Artico Quindi Beh Una figata Se il video vi è piaciuto Commentate Iscrivetevi al canale Per qualsiasi dubbio Per quale sia o semplici curiosità Vi ripeto ragazzi Commentate E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi